Sono molto felice per fare il primo gol in Serie A, abbiamo vinto, abbiamo fatto tre punti e questo è il nostro lavoro. Hai una dedica speciale quando si segna un gol così bello davanti al pubblico, credo che ci siano dediche soprattutto a chi ti è stato vicino. Giochiamo così, qualche volta un giocatore fa questo gol. Pensi di poter avere spazio? Sì, volevo andare via ma è rimasto, ora voglio giocare bene, voglio lavorare duro e giocare di più. No, sono felice per lui perché è un anno e mezzo che lavora in silenzio, con sofferenza, magari a volte anche qualche delusione perché gioca poco, viene da un altro paese. È un giocatore che abbiamo visto stasera, un grandissimo talento, naturalmente ha bisogno di continuità. Qualche settimana fa ci siamo dovuti anche insieme al ragazzo a scegliere cosa fosse meglio per lui, anche se c'era l'incertezza perché comunque hai paura di sbagliare. Ha avuto la sua occasione, ha dimostrato di avere talento e anche coraggio, personalità. Naturalmente ha bisogno di crescere ancora nella continuità ma questo c'è il tempo dalla sua parte. Credo tutti nello spogliatoio oggi siano contenti, particolarmente anche per lui. Che Fiorentina hai visto? Ho visto una squadra con grandissima volontà, voglia di vincere, contro un avversario difficilissimo che ci ha messo in difficoltà. Abbiamo giocato con magari meno equilibrio di altre volte ma con quel furore che volevo vedere. Insomma abbiamo vinto con qualcos'altro, è quello che volevo dire ieri. Quindi mi è piaciuta molto la squadra per tutto questo. In tutto questo dentro la partita ci sono stati anche momenti lunghi dove si sono viste delle ottime trame di gioco e dove avremmo potuto chiudere la partita. Merito all'Atalanta che è una squadra dimostrata anche oggi estremamente compatta. Ha provato a fare la partita a sua volta non aspettandoci i bassi però nel compito generale penso che la partita sia stata meritata anche in termini di occasioni. Qualcuna l'abbiamo anche regalata come talvolta ci succede però siamo così. Salve mister. A proposito di occasioni però mi pare che nell'ultima mezz'ora invece con il risultato in bilico non sia arrivato nessun pericolo. Quindi le chiedo se nella gestione della partita c'è stato un ulteriore miglioramento e poi visto che Ilici ci ha chiesto il cambio se era stanco o c'era un problema. Non abbiamo concesso molto in ultima mezz'ora anche se qualche patema d'animo si è visto. Ci abbiamo provato quantomeno. Sì, non siamo particolarmente nati per gestire le partite in questo modo. Se l'abbiamo fatto bene avremmo potuto farla meglio, dovremmo farne meglio però la squadra nel suo insieme è piaciuta. Ilici ci si era un po' che ha chiesto il cambio intanto che non gioca e è stata una scelta dettata anche da questa. Anche se stavo cambiando idea perché poi ha fatto un recupero prima di uscire e è importante.